Per la Putiolana si apre una nuova pagina, inizia l'era Campilongo con la consapevolezza di dover lavorare molto per recuperare terreno in classifica. Servono fiducia e convinzione, ma soprattutto positività e pazienza. Stadio Domenico Conte di Pozzuoli, buon pomeriggio da Giulio Alfano e benvenuti a Putiolana Martina. Il pallone comincia a rotolare, in bocca al lupo, ai tifosi Granata. Subito lancio lungo di Amelio per Guarracino che entra in aria, viene però rimontato e su ma fa suo il pallone. Lancio lungo sponda per Grieco, ottima la sua giocata, a campo da attaccare e ne approfitta Grieco. Largo da Di Lorenzo, finta di corpo Di Lorenzo, il traversone, la tocca a Guarracino, arriva Esposito! Francesco Esposito sul secondo palo, per il vantaggio della Putiolana. Ci ha creduto ed è arrivato per primo sul pallone vagante, 1 a 0, segna Esposito. Corpellari, Cerutti, Teio, ancora Cerutti, scappa la difesa Granata, Cerutti pensa al tiro, lo fa partire, alto e non di molto. Corpellari, il cross Lopez, poi allontana Amelio, Cerutti di testa, Diaz si gira immediatamente, Maellaro c'è! Due in barriera per la Putiolana, Cerutti, attenzione, il pallone rimane lì e arriva il pareggio di Diaz. Ha pareggiato il Martina con Diaz, azione di mischia ed è il più lesso di tutti, il giocatore ospite, 1 a 1. Cappellari premia il taglio di Lopez, esce bene su di lui Maellaro, calcio d'angolo. Se acabò la primera mitra, 1 a 1 tra Putiolana e Martina, con Diaz che ha risposto a Esposito. Il pallone ricomincia a rotolare. Trasforma l'azione in offensiva il Martina, Cerutti. Attenzione a Pinto che viene servito, secondo palo e arriva Lopez, 2 a 1 Martina. Il gol di Lopez, ripartenza fulminia da parte degli ospiti, con assist di Pinto e trasformazione di Lopez, 2 a 1. Di palma, Gatto, di prima intenzione, verso Esposito. Quellato a Comperini, ancora Esposito, il destro! Largo! Recupera il pallone di Martina, Tejo, Lopez. Cerutti da quest'altra parte, Petiti. Cerca il tiro, cross! Pallone largo, ma che pericolo per la Putiolana! Parte Petiti, ancora una volta, su palla inattiva, il gol di Diaz. 3 a 1 per Ello e Martina, doppietta per Diaz. Due gol sugli sviluppi di calcio di punizione laterale. Grieco, Romano. Percezione esterna, si accentra Romano, pensa al tiro, lo fa partire! Il pallone non prende il giro desiderato, però. Le mani arrivo lì. Amelio, in the box, e ad arresta si avvita, ma non inquadra la porta. Di palma, Romano, il cross, e ad arresta il controllo, il destro! Largo! Si accabò il partito! Putiolana 1, Martina 3. Comincia con una sconfitta, l'era Campilongo. Da parte di Giulio Alfano, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata. Grazie.